Nel punto di congiunzione tra Borgo e San Pietro e la porta di San Pietro attraversando una piazza in parte alberata dalla quale si può ammirare il suggestivo panorama della vallata di Assisi con al centro l'imponente more della Basilica di Santa Maria degli Angeli si trova l'antica abbazia benedettina dedicata a San Pietro L'abbazia di San Pietro è una chiesa extraurbana dedicata a San Pietro ed è documentata sin dal 1029 apparteneva ad una comunità benedettina che attorno alla metà del XII secolo adottò la riforma alcuniacense per poi passare a quella cistercense L'abbazia di San Pietro venne consacrata nel 1253 da Papa Inocenzo IV La parte alta della facciata venne ricostruita nel 1268 al tempo dell'abbate rustico come recita una lunga iscrizione incisa nella cornice marca piano La splendida facciata dalle fattezze regolari ispirate ad esempi del romanico spolettino è diviso in due ordini da una cornice di archetti pensili motivo che ritorna all'esterno dell'abside e tripartita dall'esene Il portale mediano è ornato da due leoni con gli stipidi decorati da una fascia a racemi che continua nell'architrave e nell'arco di scarico e da sottili colonnine con capitelli zoomorfi uniti da una cordonatura Un secondo archivolto presenta teste di animali nell'imposta e nel colmo Nella parte superiore, in asse con i portali, si aprono tre magnifici rosoni strombati Il rosone centrale è a due ordini di colonnine La facciata terminava con un timpano, abbattuto dopo i danni provocati dal terremoto del 1832 L'interno dell'abbazia di San Pietro è a tre navate rivise da robusti pilastri rettangolari La navata centrale ha una copertura con travature e lignee sorrette da arconi ogivali Mentre quelle laterali hanno le volte a botte Il presbiterio è rialzato con cinque gradini per la presenza di una cripta non visibile Coperto da una cupola formata da 31 file di concentriche di conce aggettanti Motivo, forse, di origine provenzale Le pareti interne dell'abbazia sono state messe a nudo durante il radicale restauro del 1954 Che ha portato all'abbattimento degli altari barocchi A sinistra dell'ingresso dell'abbazia di San Pietro Vi è l'accesso alla Cappella del Rosario Per secoli utilizzata come sede della parrocchia Sopra l'altare maggiore, ricostruito nel 1831 Vi è una tela della Madonna del Rosario Del 1631 Sotto l'altare maggiore vi è un sarcofago alto medievale Con il corpo di San Vittorino Martire Terzo Vescovo di Assisi E coprotettore della città Il bel chiostro dell'abbazia di San Pietro Venne costruito nel 1645 Dal cardinale Francesco Peretti di Montalto All'interno delle cappelle presenti nell'abbazia di San Pietro Sono raffigurati una serie di dipinti a parete Alcuni dipinti a parete Raffigurano personaggi come La Madonna in trono con bambino L'annunciazione E un altro dipinto famoso È la Madonna del Rosario E San Vittorino Martire All'interno di San Pietro All'interno di San Pietro All'interno di San Pietro